carissimi amici e amiche bentornati ad una nuova puntata del catechismo di san pio decimo ciclo di catechesi personalmente a me particolarmente caro penso di aver già avuto modo di esternare perché la chiarezza essenziale semplice del catechismo di san pio decimo come dire un po riflette molto il mio spirito ma un po esprime anche un qualche cosa che per quanto mi riguarda è molto molto importante nel senso l'esigenza di una chiara limpida profonda e buona formazione che è fatta di pochi concetti essenziali però ben assimilati espressi nei termini più chiari comprensibili possibili teniamo sempre presente una cosa amici cari le verità di fede questo non dimentichiamolo mai sono le nostre più grandi certezze pur non essendo oggetto di riscontro sensibile né potendo avere come alcune scienze empirico umane il crisma dell'incontrovertibilità dimostrabile attraverso la riproduzione in laboratorio oppure la dimostrazione algebrico matematica geometrica fisica o quello che vogliamo ciò nonostante le verità di fede c'hanno un tasso di certezza assoluto in quanto tali il catechismo serve a come dire radicare questo tasso di certezza nella conoscenza anzitutto intellettuale chiara e distinta di esse nel catechismo un esempio decimo questo era chiarissimo guardate che una delle a mio avviso proprio gravi debacle e fonte della grande decadenza che c'è oggi della grandissima crisi di fede è stata la follia totale proprio follia totale dell'abbandonare un approccio alla fede che sia anzitutto conoscitivo le verità di fede vanno conosciute con l'intelletto bene non semplicemente lasciate nel vago intistinto valveo di non si sa bene cosa perché poi bisogna in qualche modo sperimentarle le grandi ci sono anche come dire fior di realtà ecclesiali diciamo così influenzate da dottrine e correnti filosofico teologiche moderne che hanno ripudiato questo approccio non per niente oggi il catechismo del esempio decimo non si usa più quasi da nessuna parte in nome di altri approcci esperienziali a volte emozionali addirittura mistiche ma non esiste la mistica senza la conoscenza i grandi mistici salvo qualche rara eccezione ma se uno prende un san giovanni della croce una santa teresa ma voi pensate che erano ignoranti ignoranti proprio nel senso etimologico del termine cioè che non conoscessero bene le volontà di fede le verità di fede la san giovanni della croce sta su un altro pianeta ma anche santa teresa davida se uno legge i libri ma conosce molto bene le verità di fede benissimo anche se si se si sempre umilia e si si butta il fang addosso dicendo che lei ignorante è una povera donna eccetera eccetera insomma ecco insomma non proprio va bene detto questo la volta scorsa abbiamo visto il peccato originale e la sana dottrina cattolica sul peccato originale iuxta catechismum sancti pi decimo ecco deci secondo sampio decimo decimi genitivo vabbè oggi ne facciamo uno step ulteriore e andiamo a vedere il capo quarto cioè l'articolo che approfondisce il mistero di cristo quindi l'incarnazione la passione la morte del figlio di dio ossia crede in gesù cristo suo unico figlio nostro signore quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morto e sepolto discese all'inferno poi vedremo l'inferno non è l'inferno dei dannati ovviamente il terzo giorno di sussidata morte salì al cielo e si è dalla destra di dio padre onnipotente ora qui ci sono dei bellissimi articoli che ce li andiamo a gustare piano piano insieme numero uno in che modo il figlio di dio si è fatto uomo questa è una cosa importantissima perché è chiaro che l'incarnazione è un grande mistero d'accordo quindi proprio che cosa esattamente sia successo al verbo eterno di dio non lo possiamo perfettamente sapere perché perché non sappiamo cosa significa essere il verbo di dio cioè noi non sappiamo cosa significa essere dio detto questo però calma perché quello che è successo nell'incarnazione un po si può focalizzare e deve essere focalizzato perché sono stata una caterva di eresie una più grande dell'altra una presa all'altra nei primi secoli primi sei concili tutti quanti a combattere eresie trinitarie cristologiche dipendenti da non aver compreso l'incarnazione allora il figlio di dio si è fatto uomo prendendo un corpo e un'anima come abbiamo noi nel seno purissimo di maria vergine per opera dello spirito santo cominciamo a focalizzare ha preso un corpo attenzione e un'anima come l'abbiamo noi quindi faccio subito un esempio c'era una grande eresia io non so chi ascolta quando ero molto molto più giovane questa cosa qui me ne accorsi lo confesso insomma studiando io ero oggettivamente un eretico nel senso che pensavo che con l'incarnazione gesù avesse preso un corpo ma quello che per noi è l'anima diciamo la parte spirituale era svolta dalla sua divinità quindi ha preso un corpo solo che a differenza di un uomo normale come gli altri lui è animato dalla divinità dire questo è dire 400 eresie la prima è quella che uscì storicamente era l'apollinarismo se vuoi ci di apollinare che diceva proprio che nel verbo incarnato le funzioni spirituali erano assolte dalla divinità quindi immaginate quando io ho sauto queste cose dico mamma mia ero eretico sto parlando di tanti tanti anni fa quindi ero un giocatore studente ma mi domando sono tanti cattolici che hanno un'idea chiara dell'incarnazione cioè primo punto essenziale no? quindi qui abbiamo il figlio di Dio che si fa uomo significa che prende nel grembo di Maria attenzione per opera dello spirito santo quindi non è stata una concezione al modo umano ciò che adempie ordinariamente il seme maschile lo ha adempiuto lo spirito santo uomo questo non significa che non ci avesse un corpo vero ed un'anima creata come tutte le altre anime nell'atto stesso in cui venia a formarsi a formarsi quel corpo solo che a differenza degli esseri umani che dove l'anima secondo la dottrina più accreditata nell'ambito del cattolicesimo immediatamente viene creata al momento in cui i Dio che metti diventano uno zicote chiaramente è un nanosecondo con i tempi ultralapidi che c'ha l'altissimo istantaneamente l'anima viene creata e infusa in quello stesso momento ma anche l'anima di Cristo è stata creata nello stesso momento in cui lo spirito santo dal grembo di Maria qualche mistico ha detto dalle gocce del Tid da cinque gocce di sangue della sostanza purissima della Madonna questo è un dettaglio grazioso se si può credere oppure no non è essenziale in ogni caso quello zigote quello che sarebbe stato il corpo santissimo di Gesù Cristo è stato da subito animato da un'anima razionale evidentemente lo dirà più avanti assumendolo nella persona divina del verbo perché come vedremo l'umanità di Cristo a differenza della nostra non è autosussistente come la mia umanità come la tua umanità ma sussiste solo in quanto unità la persona del verbo e se non lo fosse non esisterebbe andiamo a vedere il numero 77 dove ci comincia ad introdurre in questo mistero perché l'incarnazione rimane un mistero però la possiamo conoscere un po' questo vale per tutti i misteri 77 il figlio di Dio facendosi uomo cessò di essere Dio? guardate come è facile facile il figlio di Dio facendosi uomo non cessò di essere Dio ma restando vero Dio cominciò ad essere anche vero uomo qui è espresso in termini molto comprensibili credo poi magari chi seguirà la diretta al termine dica no Don Leonardo io se non mi avessi spiegato tu non avrei capito niente in base alla formulazione del catechismo io credo che sia già abbastanza chiara quindi facciamo qualche piccolo commento ad abbundanziam San Giovanni Crisostomo è anche lui un grandissimo predicatore che oltre a fare delle super prediche super utile era anche lui come tutti i grandi predicatori capaci di essere estremamente semplice per farsi comprendere perché la pratica del Vangelo non è una dissertazione come dire un discorso che deve essere aurico ed apprezzato da chissà cosa quella è finalizzata alla crescita spirituale dei fedeli in cui ci possono stare persone anche molto molto semplici e etimologicamente parlando ignoranti quindi devi essere compreso da loro no? e che cosa dice San Giovanni Crisostomo? rimanendo ciò che era è diventato ciò che non era quindi rimanendo Dio quindi per quanto riguarda la sua divinità non è cambiato nulla però ha cominciato ad essere anche vero uomo e quindi 78 in Gesù Cristo sono attenzione al termine due nature la natura dicono i greci è ciò per cui una cosa è allora la natura divina è ciò per cui Dio è Dio la natura umana è ciò per cui noi uomini siamo uomini la natura umana l'abbiamo già visto che cos'è la natura umana consiste semplicemente in un corpo animato da un'anima razionale che ne è la forma sostanziale mentre Dio come sappiamo che cos'è la natura divina Dio è puro spirito e l'abbiamo visto nei primi articoli Dio è eterno immenso onnisciente onnipotente eccetera eccetera no? le nature sono entrambe presenti in Gesù Cristo quindi quella divina e quella umana attenzione però numero 79 in Gesù Cristo sono anche due persone il concetto di persona e natura sono concetti distinti perché mentre la natura è ciò per cui una data sostanza è quello che è la persona etimologicamente riflettiamo una persona etimologicamente viene da per sé una la persona fa riferimento all'individuo cioè io sono una persona perché la natura umana si concretizza nell'individuo che io sono e tra l'altro con le caratteristiche uniche e ripetibili che io ho come tu hai e che sono dimostrate a tutti i livelli cioè se uno non crede che l'anima è unica guardi il corpo le mie improntine digitali adesso le faccio vedere nel video le mie improntine digitali sono solo le mie non ce le può avere nessun altro come le mie tanto è vero che sappiamo che se uno viene identificato con le impronte digitali l'identificazione è certissima il DNA è solo il mio quindi la persona per sé una che fa di sé un unicum è l'individuo d'accordo? allora Gesù Cristo sono uno o due individui cioè c'è una persona umana come me quindi individuata nella sua autonomia e indipendenza e il verbo come dire ha fatto una sorta di alleanza quindi che sembra che è uno però in realtà sono due ok c'è un'unione come diceva il grande eretico Nestorio così diciamo subito questa che Gesù Cristo fossero due persone è stata la grande eresia di Nestorio a cui la Chiesa ha risposto con il concilio di Efeso dove è stata proclamata l'unicità della persona di Gesù e quindi il fatto che la Madonna potesse chiamarsi madre di Dio perché sono connesse queste cose? perché Nestorio diceva ma quale madre di Dio? ma la Madonna è la madre di Cristo non è la madre di Dio ti pare che la Madonna genera la natura divina? lei ha dato semplicemente lei ha generato Gesù Cristo in quanto uomo e quindi bisogna chiamarla madre di Cristo non madre di Dio questo sarebbe vero se l'unione che si è realizzata nel grembo della Madonna non fosse quella che si chiama tecnicamente l'unione ipostatica cioè non è che la persona del verbo la seconda persona della Santissima Trinità dopo che l'umanità di Gesù Cristo era già stata concepita e plasmata quindi già creato il corpo e l'anima in un secondo momento dice va bene da questo momento io mi metto in stato di fusione di unione morale con questo meraviglioso individuo creato nel grembo della Vergine Maria non è successo questo ma nell'atto stesso in cui è stato creato lo zigote facciamo proprio il processo zigote infusione dell'anima e nell'atto stesso in cui questo avviene quello zigote animato da quell'anima viene assunto dalla persona del verbo cioè non è una personalità autonoma e autosussistente come la mia ma il principio della sua sussistenza sta nell'essere unito alla persona del verbo capite che significa significa che ogni atto che compie Gesù Cristo non è un atto di un uomo ma è un atto di Dio perché il soggetto di attribuzione delle azioni è la persona capite allora perché la Madonna si chiama madre di Dio ha spiegato il concilio di Efeso non certo perché ha generato la divinità no ma perché quell'uomo concepito nel suo grembo non è una persona umana ma è immediatamente stata assunta con l'umanità dalla persona del verbo e quindi chi è entrato nel grembo di Maria è il verbo fatto carne c'era veramente il verbo nel grembo di Maria perché dal momento in cui si è realizzata nell'incarnazione quell'umanità non può sussistere se non in stato di unione alla persona del verbo e se perché è così importante questa cosa perché l'unione ipostatica una volta che Dio sceglie di farla perché Dio potrebbe anche tranquillamente scegliere di non fare una cosa di questo genere ma una volta che l'ha fatta non si può tornare indietro non si può se fosse stata un'unione morale un'unione morale è separabile a un certo punto la persona del verbo dice non ci voglio stare più unito con questa bella persona umana e me ne vado di per sé lo può fare tranquillamente ma una volta che c'è stata l'incarnazione un'unione ipostatica no quindi vuol dire che in croce chi è che stava soffrendo stava soffrendo il figlio di Dio non semplicemente un uomo per questo anche se evidentemente bisogna scaricare sfrondare questo termine dalle come dire strumentalizzazioni ideologiche sono state fatte nel passato ma quello che è stato la morte di Gesù è stato un vero decidio perché non è stato ucciso un uomo è stato ucciso Dio certamente quanto la natura umana assunta perché Dio non lo può uccidere in se stesso ma chi ha sofferto e chi è morto era il figlio di Dio fatto uomo non era fin copallino quindi il catechismo nel esempio decimo risponde in Gesù Cristo con le due nature non sono due persone ma una sola quella divina del figlio di Dio quella divina del figlio di Dio quindi tu hai vedi un uomo apparentemente quell'uomo è come noi cioè tu vedevi Gesù Cristo sembra tutto uguale a me ma non lo era perché io non sono il figlio di Dio fatto uomo come non lo sei tu cioè tu vedi me io sono un uomo tu sei una donna lui no lui è vero uomo ma non è un uomo perché è il figlio di Dio fatto uomo allora numero 80 andiamo avanti Gesù Cristo come fu conosciuto per figlio di Dio allora risposta Gesù Cristo fu conosciuto per figlio di Dio perché tale lo proclamò Dio padre nel battesimo e nella trasfigurazione questo non dimentichiamolo mai è stato il padre a dire questo è mio figlio con una parola udibile dai presenti in quali occasioni nel battesimo e nella trasfigurazione dicendo questo è mio figlio di letto nel quale mi sono compiaciuto e poi qui ne dice un'altra e poi più avanti ne dirà un'altra ancora e perché tale si dichiarò Gesù stesso nella sua vita terrena lui si è dichiarato tale ha dato dei segni di questo più avanti lo vedremo un'altra grande domanda questo è la domanda che se uno risponde bene ha capito il mistero dell'incarnazione almeno in parte domanda Gesù Cristo è stato sempre numero 81 faccio un po' di silenzio così chi ascolta che risponderesti Gesù Cristo è stato sempre è chiaro che la risposta va leggermente articolata e l'articolazione è questa leggo la risposta Gesù Cristo come Dio è stato sempre come uomo cominciò ad essere dal momento dell'incarnazione cioè quello che l'incarnazione diciamo così ha apportato secondo certamente il nostro modo di intendere è che da quel momento il verbo eterno del padre che per quanto riguarda la sua divinità non subisce nessun tipo di mutamento conosce però un'altra forma di essere cioè rimane Dio ma comincia anche ad essere vero uomo questo non muta nulla evidentemente né nella sua natura divina né tantomeno nella Santissima Trinità è semplicemente un qualche cosa di più scelto e fatto per amore nostro è una nobilitazione immensa della natura umana ecco perché questa è una digressione che faccio a mio avviso nella famosa diatriba il verbo si sarebbe incarnato se l'uomo non avesse peccato sì o no chi sostiene di no collega l'incarnazione semplicemente alla redenzione ma chi sostiene di sì collega l'incarnazione alla nobilitazione dell'uomo alla scelta eterna della Santissima Trinità di portare la creazione alla perfezione assoluta attraverso questo capolavoro perché questa cosa è l'ipotesi più attendibile perché come dicevano i padri della Chiesa allora noi dobbiamo considerare che Dio ha creato delle forme differenziate di essere ok qual è la forma di essere più vicina a Lui sono i puri spiriti sono gli angeli poi al secondo posto vengono gli uomini poi al terzo posto vengono gli animali poi al quarto posto vengono i vegetali e poi al quinto posto viene la materia inerte ora è chiaro che gli angeli sono molto più grandi di noi però se uno fa attenzione l'uomo racchiude in sé tutti i gradi di essere creati da Dio perché? perché anche se siamo molto meno perfetti degli angeli noi però abbiamo l'anima che è una parte completamente spirituale creata da Dio in persona la nostra anima diciamo così nella sua essenza è simile a un angelo quindi io che sono un uomo ho qualcosa di simile ad un angelo ma l'angelo non c'è qualcosa di simile a me perché l'angelo il corpo non ce l'ha cioè sì è vero che c'è l'anima che c'ho anch'io ma io c'ho una cosa che l'angelo non ce l'ha perché l'angelo i corpi non ce l'hanno la materia non ce l'ha se no non sarebbero pure i spiriti e attenzione che dentro la mia materia la materia umana la vita animale è contenuta perché noi siamo purtroppo grazie a Dio non dobbiamo degradarci ma siamo animali nel senso che ci muoviamo ci nutriamo quindi abbiamo funzioni analoghe a quelle che vivono il mondo animale ci riproduciamo anche no? abbiamo la vita vegetativa no? come si dice quando una persona si riduce allo stato vegetativo le piante si nutrono per esempio no? e crescono non ce l'abbiamo e abbiamo anche la materia materia d'accordo? dopo la morte la nostra materia certamente si mineralizza ma le ossa possono andare avanti quindi tutti i gradi di essere sono contenuti nell'essere umano pur essendo l'essere umano non il numero due nell'ordine dei gradi dopo Dio perché il numero due sono le sostanze spirituali però l'incarnazione che cosa era? se il verbo si fa uomo prende tutta la creazione e la eleva al massimo possibile gratificandola a 360 gradi vi faccio se per assurdo il verbo si fosse fatto angelo poteva pure farlo quindi unire epostaticamente a sé una natura angelica nessun problema ma avrebbe lasciato fuori da quest'azione tutto il resto del creato tutto ciò che era materiale era completamente estromesso ecco perché i padri chiamavano l'uomo il microcosmo perché in sé ha contenuti tutti i gradi di essere e quindi il verbo si fa uomo prendendo tutto ciò che ha creato angeli compresi perché anche per gli angeli è una nobilitazione questa qui e gli angeli buoni questo lo hanno capito nella prova a cui sono stati sottoposti anche se la nostra natura è inferiore a loro però per la parte spirituale che ha l'incarnazione comporta una nobilitazione anche anche per loro vista sotto certi punti di vista non certamente dal punto di vista di Lucifero e quindi per questo che ciò che ha sempre difeso d'un scoto cioè che il verbo si sarebbe incarnato comunque a mio avviso è la posizione corretta da tenere da ritenere il peccato dell'uomo è come dire ha trasformato anche il significato dell'incarnazione perché ha trasformato l'incarnazione fondamentalmente anzitutto in una necessità di redimere l'uomo quindi prendendo tutto il male prodotto dal peccato dell'uomo quindi il dolore da noi generato per redimerci quindi prendere la conseguenza per ridarci la grazia perduta queste sono digressioni insomma però stiamo affrontando questi articoli così completiamo un po' la nostra conoscenza sull'incarnazione no? in particolare questo numero che abbiamo visto e che ripeto Gesù Cristo come Dio è stato sempre come uomo cominciò ad essere dal momento dell'incarnazione abbiamo apprezzato aggiunto che l'incarnazione sarebbe avvenuta e sarebbe stata ancora più bella anche se l'uomo non avesse peccato per le motivazioni che ho cercato di esternare che sono evidentemente condivise da più di qualche pensatore cattolico numero 82 da chi nacque Gesù Cristo Gesù Cristo nacque da Maria sempre vergine la quale perciò si chiama ed è vera madre di Dio qui il catechismo presume che noi stiamo seguendo un discorso no? se Gesù Cristo non è due persone ma è una persona con due nature e ha già specificato quale persona quella del figlio di Dio di chi è madre la madonna di Gesù Cristo ma essendo Gesù Cristo il figlio di Dio fatto uomo ne segue molto semplicemente che la madonna è deve essere chiamata veramente madre di Dio perché il suo grembio è stato scelto per realizzare questo mistero dei misteri e chi è uscito da quel grembo ripeto non è un uomo come tutti gli altri anche se è vero uomo come tutti gli altri ma è il figlio di Dio fatto uomo e quindi la madonna è madre di Dio numero 83 San Giuseppe non fu padre di Gesù Cristo risposta San Giuseppe non fu padre vero di Gesù Cristo ma padre putativo cioè come sposo di Maria e custode di lui fu creduto suo padre senza essere tale qui è chiaro che il catechismo sta come dire facendo riferimento non alla paternità come funzione ma alla paternità biologica e San Giuseppe non fu vero padre di Gesù sotto questo punto di vista perché con la nascita con il concepimento di Gesù e con la sua nascita non c'è tra poco niente altra cosa è che fu un grandissimo padre e un vero padre di Gesù nel senso che assunse le funzioni paterne al 100% come padre adottivo e qui altrove insomma quando abbiamo visto le catechesi dedicate appunto alla paternità di San Giuseppe l'abbiamo visto specialmente di questi tempi essere padre biologico sì ha certamente la sua importanza ma un padre adottivo può essere 100 miliardi di volte meglio di un padre biologico così come ci possono essere padri biologici come purtroppo ben sappiamo che nemmeno sanno di essere tali perché hanno magari per qualche rapporto occasionale sparso qualche figlio da qualche parte del mondo che non sanno neanche ad averlo insomma o magari pur sapendo di averlo se ne sono altamente infischiati cercando di dimenticarsene e di far e di far dimenticare questa situazione no dove nacque Gesù Cristo numero 84 Gesù Cristo nacque a Betlemme in una stalla fu posto a una mangiatoia vedete come in una stalla Gesù quindi non il presepuccio carino che dobbiamo fare dei presepucci carini per carità il realismo dell'incarnazione anche l'estrema povertà richiedono che siamo consapevoli che era una stalla eppure malmessa e quindi nacque in estrema povertà e quindi ne segue il numero 85 perché Gesù Cristo vuole essere povero Gesù Cristo vuole essere povero Gesù Cristo vuole essere povero risposta per insegnarci ad essere umili uno e a non riporre la felicità nelle ricchezze negli onori e nei piaceri del mondo qui già si sta dicendo una grande cosa il catechismo cioè che Gesù ha parlato prima ancora che con le parole come tutti dovremmo imparare a fare con i fatti e con i gesti che sono sempre molto significativi e quelli che si vedono che potremmo aprire un discorso che non finisce mai allora Gesù Cristo non avrebbe cioè non avrebbe potuto specialmente lui autorevolmente insegnare tutto quello che ha insegnato se nella sua persona non fosse stato un esempio vivente come fai a dire di non riporre la fiducia nelle ricchezze se tu sei ricco non sei credibile stiamo parlando di Gesù Cristo che è il fondatore del cristianesimo no? ecco si batiche la prima cosa che dice il catechismo è insegnarsi ad essere umili perché se un poveraccio è ricco non deve sentirsi a priori escluso per carità Dio ci riesca dal Vangelo e dalla salvezza no? ecco ma anche i ricchi devono essere umili e non devono riporre nelle ricchezze la propria felicità devono semplicemente amministrarle da buoni amministratori in maniera conforme alla volontà di Dio dove imparare a farlo non è detto che se ne debbano sempre disfare completamente però su questo argomento c'è bisogno di essere evangelizzati come dire un ricco sfondato alla maniera come dire dei mondani quindi che usa le ricchezze per sperperare godersi la vita non fare nessuna lemosina eccetera eccetera questo fa un po' di problema questo qui ma non è la ricchezza in sé è l'uso che ne viene fatto come viene amministrata e se ci si pone il cuore oppure no dice già la Sacra Scrittura nell'Antico Testamento un salmo bellissimo alla ricchezza anche se abbonda non attaccate il cuore negli onori oh quanto sono attaccati gli uomini agli onori è nei piaceri del mondo 86 che fece Gesù Cristo nella sua vita terrena bellissimo Gesù Cristo nella sua vita terrena ci insegnò con l'esempio e con la parola a vivere secondo Dio bellissimo con l'esempio e con la parola con l'esempio e con la parola qui sembra di sentire l'eco di quello che sarebbe stato un grandissimo seguace di Gesù qualcuno lo ha definito il primo dopo l'unico tra i maschietti forse si può accettare perché poi c'è anche la prima dopo l'unico che però sta su un altro pianeta che è inimitabile il primo dopo l'unico sarebbe San Francesco ma si legge proprio nelle fonti francescane nelle regole di San Francesco i frati devono predicare il Vangelo sapete che gli ordini mendicanti anche quello di San Domenico nacque proprio con l'intenzione proprio chiarissima proprio con il carisma di fondazione di predicare il Vangelo nella nuova realtà medievale che veniva creandosi che erano le città con la borghesia lo spostamento della vita non soltanto economica ma anche sociale dalle campagne quindi alla città e quindi dal sistema feudale al sistema dei comuni quindi ci trovavano queste masse di gente nei nuovi centri urbani che erano fenomeni sconosciuti prima nella storia che avevano bisogno di ascoltare il Vangelo gli ordini mendicanti nacquero per questo scopo però San Francesco diceva io voglio che predichino il Vangelo prima con la vita e poi con la parola per questo che era assolutamente intransigente su alcune cose volendo riprodurre uno stile di vita il più possibile vicino a quello che il Signore stesso aveva scelto per sé nella vita terrena ecco perché la povertà estrema e tutte quante le cose che hanno caratterizzato la vita e la spiritualità di San Francesco d'Assisi riprodurre se Gesù ha fatto così dobbiamo fare anche così che altri non lo facciano va bene ma noi dobbiamo fare esattamente questo quindi questa attenzione forte all'esempio noi figli della Chiesa specialmente gli uomini di Chiesa a questo devono fare estrema attenzione estrema perché l'esempio è assolutamente fondamentale è vero che siamo sempre tutti quanti imperfetti inadeguati da dare esempi come quelli che ha dato il nostro Maestro Signore così perfetti è quasi impossibile però almeno sostanzialmente insomma dobbiamo dobbiamo cercare di starci dentro certe cose no e anche capire che alcune cose sono non compatibili insomma con 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 la nostra missione questo non va non soltanto per i preti ma anche per i fratelli e le sorelle la anche no quindi oh e confermò prosegue il testo con i miracoli la sua dottrina ecco qua arrivano i miracoli e finalmente per cancellare il peccato riconciliarci con Dio e riaprisse il paradiso si sacrificò si sacrificò sulla croce unico mediatore tra gli uomini bellissimo no quindi predica con l'esempio e poi con la parola conferma la sua predicazione con i miracoli e compie l'opera e compie l'opera della redenzione che è come effetti la riconciliazione con Dio la cancellazione del peccato e la riapertura del paradiso questo è venuto a fare il nostro signore ok che cos'è un miracolo numero 87 noi sappiamo dire che cos'è un miracolo il miracolo è un fatto sensibile superiore a tutte le forze e leggi della natura e perciò tale che può venire solo da Dio padrone della natura fatto sensibile superiore a tutte le forze della natura e perciò tale che può venire solo da Dio padrone della natura la riapertura degli occhi di un cieco può essere fatta istantaneamente solo da Dio perché perché lui sa perfettamente come ha fatto un occhio e sa intervenire su un occhio e sa anche rifarlo dal nulla se uno fosse un cieco nato e sa aggiustarlo se è sfasciato d'accordo questo lo sa fare soltanto l'altissimo gli esseri umani sanno imparano ad aggiustare attraverso l'arte medica chirurgica qualche cosa entro certi limiti fino a quando rimane ancora giustabile ma certamente non sono mai processi istantanei con una caratteristica tipica del miracolo è l'istantaneità che è propria della logica di Dio Dio fa tutto e subito lui si noi vorremmo spesso tutto e subito ma siccome siamo dei poveri esseri umani dobbiamo imparare che tutto e subito è come dire vocabolario divino non è vocabolario umano con quali miracoli 88 specialmente Gesù Cristo confermò la sua dottrina e dimostrò di essere vero Dio Gesù Cristo confermò la sua dottrina e dimostrò di essere vero Dio specialmente correndere attenzione in un attimo vedete l'istantaneità del miracolo la vista ai ciechi l'udito ai sordi la parola ai muti la salute a ogni sorta di infermi e la vita ai morti ci sono tre resurrezioni narrate dai Vangeli la figlia di Gairo il figlio della vedova di Nain e Lazzaro la più strepitosa morto da quattro giorni allora sono resurrezioni quelle lì perché che cosa è avvenuto ragazzi cosa è avvenuto cosa ha fatto Gesù per fare questo tipo di operazione anche qui ha fatto una cosa molto semplice ha chiamato l'anima di quel defunto e gli ha detto torna dentro questo corpo e cominciano di nuovo ad animarlo fine tutto qua finito Dio questo lo può fare tranquillamente non gli ha conferito questa è la differenza che c'è tra queste resurrezioni e la sua resurrezione è quella che noi vivremo la glorificazione quindi l'immortalità anche nel corpo la vittoria sulla morte perché sia Lazzaro che la figlia di Gairo che il figlio della vedova di Nain poi sono morti Lazzaro è morto martire secondo la tradizione però sono state resurrezioni comunque vere perché l'anima è tornata nel corpo per l'impero del figlio di Dio ancora prosegue l'articolo con l'imperare da padrone ai demoni e alle forze della natura anche scacciare i demoni è una prova certa della sua divinità quando gli dicono tu scacci i demoni nel nome di Beelzebul tra l'altro questa definisce la bestemmia contro lo spirito santo perché scambia lucciole con con lanterne e impugna la verità conosciuta l'autorità sui demoni è un chiarissimo segno divino perché i demoni non si mettono contro di loro non perché si amino ma perché non vogliono mandare a monte i loro piani se non fossero organizzati come la più grande mafia dell'universo loro non potrebbero come dire avere quei limitati successi che hanno in ordine a dannare e a portare alla dannazione qualcun altro per fare questo ci vuole una grande organizzazione e se si mettessero a litigare tra di loro e a non essere concordi sarebbe la fine non possono essere vinti noi non possiamo competere contro i demoni nessuno di noi pensi che si possa competere contro il demonio contro il demonio si può competere soltanto nel nome di Cristo sia quando si tratta di cacciare i demoni dagli altri questo lo sanno bene gli esorcisti sia quando si tratta di tenere lontano il demonio da noi e questo dobbiamo impararlo tutti quanti che siamo gli esorcisti di noi stessi ok non si può fare il gradasso con i gradassi con i diavoli perché i diavoli ci fanno a mille pezzi se non siamo difesi e protetti e aiutati dal nostro Signore Gesù Cristo ancora numero 89 potassi che riusciamo a finirla questa questa sezione oggi sì Gesù Cristo morì come Dio come uomo questa evidentemente è una domanda quasi retorica ma è bene specificare Gesù Cristo morì come uomo perché come Dio non poteva morire e a né patire né morire e che cosa è successo dopo la morte di Gesù questa è un'altra bella domanda cos'è successo dopo la morte di Gesù dopo la morte Gesù Cristo discese con l'anima a limbo dalle anime dei giusti morti fino ad allora per condurle seco in paradiso poi risuscitò ripigliando il suo corpo che era stato sepolto cioè con la morte cioè la morte di Gesù è stata una vera morte perché la sua anima si è separata dal suo corpo e nel tempo in cui la sua anima è stata separata dal suo corpo come la Chiesa dice nel simbolo apostolico e come si celebra nel sabato santo lui è sceso nel limbo dei santi padri dove erano tutte le anime dei giusti morti fino ad allora che non potevano entrare in paradiso perché non era stato pagato il prezzo della redenzione li ha tolti da lì e li ha portati in paradiso poi quella stessa anima con l'impero divino è tornata nel suo corpo e lo ha ricominciato ad animare San Tommaso da qui non specifica evidentemente che l'unione ipostatica è rimasta indelebile anche nello stato di separazione dell'anima dal corpo il verbo ha continuato ad essere unito sia al corpo di al suo corpo anche nello stato cadavetico momentaneo che alla sua anima 91 quanto tempo restò sepolto il corpo di Gesù Cristo il corpo di Gesù Cristo restò sepolto tre giorni non interi dalla sera del venerdì fino all'alba del giorno che ora si dice domenica di Pasqua quindi vedete anche questi piccoli particolari dettagli nel bellissimo catechismo abbiamo visto cosa ha fatto Gesù dopo la sua morte è discesa agli inferi liberatore dell'anima dei santi pari e dopo la risurrezione che ha fatto Gesù Gesù Cristo dopo la sua risurrezione rimase in terra 40 giorni poi salì al cielo dove siede la destra di Dio Padre Onnipotente 93 perché Gesù Cristo dopo la sua risurrezione rimase in terra 40 giorni vedete i perché santi i perché che si possono e si devono chiedere quelli utili alla nostra formazione e salvezza Gesù Cristo dopo la sua risurrezione rimase in terra 40 giorni primo per mostrare che era veramente risuscitato e secondo per confermare discepoli nella fede in lui e terzo istruirli più profondamente nella sua dottrina ultimo e questo è uno spettacolo quindi lo chiediamo alla grande anche qui formulo la domanda e dopo lascio qualche istante perché questa è una domanda che se si risponde bene dieci è lode allora la domanda è questa ora quindi adesso Gesù Cristo è solamente in cielo Gesù Cristo è solamente in cielo sì no sì e no allora fatta la pausa dico che anche a questa domanda bisogna dare una risposta articolata e cioè se tu parli di Gesù Cristo come Dio non è solamente in cielo perché già sappiamo ricordiamo i primi numeri del catechismo che Dio è immenso cioè è in cielo e in terra e in ogni luogo quindi come Dio non ha mai cessato di mantenere la sua immensità ma come Dio è uomo il credo ci dice salì al cielo e siedi alla destra di Dio Padre attenzione però attenzione perché Gesù è salito al cielo ma ha impiuto la sua promessa io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo io sono io sono sono con voi verbo presente io l'ha detto Gesù Cristo non l'ha detto io in quanto Dio sono con voi questo non c'era neanche bisogno di dirlo e come realizza questa promessa al Signore? con l'Eucharistia leggo la risposta totale al 94 e poi chiudiamo con una parola di commento ora Gesù Cristo non è solamente in cielo ma come Dio è in ogni luogo e come Dio è uomo è in cielo come diciamo nel credo salì al cielo siete alla destra e nel santissimo sacramento dell'altare cioè anche qui quando noi diciamo che cos'è l'ostia sapete qual è la risposta? l'ostia è Gesù Cristo punto e basta come dice chi è Gesù Cristo il figlio di Dio ha fatto uomo finito ma sembra soltanto un uomo è il figlio di Dio ha fatto uomo e te ne ha dato i segni e l'Eucharistia che cos'è? è una cosa inerte? è un simbolo? è un richiamo alla memoria? che cos'è? è Gesù Cristo come specifica il Magistero della Chiesa non c'è nessuna differenza attenzione tra la presenza personale di Gesù in cielo come Dio e come uomo seduto alla destra del Padre e l'Eucharistia l'unica differenza che spiega il Magistero della Chiesa è che in cielo occupa lo spazio attraverso le sue membra fisiche nell'Eucharistia occupa lo spazio attraverso le specie eucaristiche anche infinitesimale perché è la sostanza del pane che si trasforma nel suo corpo ed essendo il corpo di una persona che è viva dentro il corpo c'è anche il sangue dentro il corpo e il sangue di una persona vivente non morta è unita all'anima perché se una persona è viva l'anima è unita al corpo e se è il figlio di Dio l'anima e il corpo sono uniti postaticamente alla persona del verbo quindi quando noi stiamo davanti all'Eucharistia noi stiamo davanti al figlio di Dio fatto uomo ecco perché genuflessioni dinanzi al tabernacolo ecco perché quando Gesù Cristo è esposto doppia genuflessione con la destra e la sinistra è inchino profondo nella sequenza del Corpus Domini a proposito è certezza a noi cristiani si trasforma il pane in carne sangue si fa il vino è certezza quindi alla grande conclude questa sezione quindi che si ferma appunto all'ascensione perché poi parla della parousia nel capo quinto che vedremo la prossima volta ma ricordando l'adempimento della promessa ma nell'Eucharistia ripeto c'è Gesù Cristo figlio di Dio incarnato tu cur per cui a voglia qui anche nei giorni scorsi sul sul canale telegram cioè uno può dire quello che vuole la coscienza del fedele deve chiedersi come relazionarsi con il figlio di Dio in persona tu che faresti se stessi davanti a Gesù Cristo in persona quali confidenze ti prenderesti se stessi davanti a Gesù Cristo in persona a meno che io non te le desse lui sotto tutti i punti di vista materiale esteriore come ti accosti come ricevi come deve stare la tua anima cosa fai prima di ricevere l'Eucharistia cosa fai dopo come ti comporti in chiesa come stai dinanzi a Gesù quando è esposto come fai l'adorazione se la fai l'adorazione che tipo di stima è della messa come la frequenti quanto la frequenti possiamo stare fino al giorno del giudizio ecco perché cioè messa comunione e tabernacolo sono per noi cioè quando saremo arrivati a livello che non possiamo vivere senza questo beh allora cominciamo a vivere un pochettino da bravi cristiani per come diceva San Francesco che abbiamo più volte citato ecco dalla sua grande venerazione per esempio per i sacerdoti dice non voglio sapere niente cioè gli portavano i più grandi delinquenti dice ma non importa niente non voglio sapere niente questo quando consacra fa scendere Gesù Cristo basta c'ha una dignità assolutamente incomparabile non voglio sapere nient'altro tutto il resto lo faccia quello che vuole se sarà cattivo nostro Signore lo sbatterà all'inferno lo farà lui io non voglio sapere nient'altro perché San Francesco non capiva più niente quando sta davanti all'Eucharistia e attenzione è lui insieme a San Tommaso ad aver scritto che nessuno nessuno osi toccare con le mani l'Eucharistia l'ha scritto San Francesco nelle fonti francescane e attenzione che San Francesco era diacono e rimase diacono perché si sentiva indegno di essere sacerdote di toccare Gesù Cristo di consacrarlo e di offrire il santo sacrificio San Francesco San Francesco San Francesco bene San Francesco prendiamolo sempre insegnamenti integrali non soltanto in quelli che vanno che vanno di moda adesso con ecologie gli impicci la pace la fratellanza c'era anche questo in San Francesco però c'era molto di più io credo che insomma con i santi e poi i santi sono un po' come tutti quanti morti non parlano in maniera sensibile quindi non possono dire ma che stai a fare cioè non mi ridurre in questo modo non mi strumentalizzare in questa in questa forma no insomma con il dovuto rispetto ma per me le priorità erano ben altre ecco io credo che San Francesco qualche cosa del genere forse vedendo come viene tirato un po' troppo per la giacchetta da certi ambienti se potesse dire qualcosa temo che la dire potrebbe poi sicuramente mi sbaglio se mi sbaglio insomma tanto meglio bene amici dopo questa delizia che ci siamo almeno personalmente io ogni volta che rileggo queste cose è chiaro che immaginate che le so abbastanza bene ma rileggerle vederle formulate e quindi poterle proporre è sempre per un motivo di grandissima gioia detto questo amici un saluto a tutti e la mia benedizione Dio vi benedica che la Madonna sempre vi protegga ci vediamo se Dio vuole il prossimo quarto mercoledì del mese per una nuova puntata del Catechismo Dio vi benedica di nuovo e a presto grazie a tutti